La prima cosa è di essere ascoltati, perché penso che quando ci siete su un tavolo e ognuno di noi ha un po' di buonsenso, sicuramente si ottiene qualcosa. In questo momento, anche con il Ministro Di Maio purtroppo, ma con tutto il Governo non si riesce a parlare, questa è la cosa che mi lascia perplesso, deluso e amareggiato. Perché, ripeto, con l'incontro, quando uno spiega le cose, se non c'è pregiudizi a monte, sicuramente le cose si potrebbero risolvere. Non riusciamo ad avere un incontro con Di Maio, ci dice che è impegnato e questo fa solo male, ripeto, a tantissime piccole e medie imprese, che poi lui rappresenta, perché, ripeto, il problema è dei tanti lavoratori che stanno sul territorio nazionale, che oggi veramente rischiano di andare a casa sia per gli orari, sia per le distanze e sia per quanto riguarda la fiscalità, che è arrivata ormai a margine oltre 75%.